Corsi di inglese gratuiti per bambini ed adulti li promuove per il secondo anno consecutivo l'Associazione Gemellaggi di Gubbio che da gennaio ha dato il via a lezioni presso la Biblioteca Sperelliana per l'insegnamento della lingua inglese e tedesca di primo e secondo livello. Si proseguirà fino a Pasqua con cadenza quindicinale per l'inglese e settimanale per il tedesco. Sabato è stata la volta dei più piccoli che hanno visto salire in cattedra tra gioco e lezione una studentessa del quarto anno dell'Istituto Cassata Gattapone, indirizzo turistico assistita in questa sua esperienza da docenti di lingua. Questa è una bellissima esperienza e formazione che la scuola permette di dare a noi e ai bambini stessi e grazie all'Associazione Gemellaggi di Gubbio e alla professoressa Laura Zampagli e Ellison che ci hanno supportato e aiutato a realizzare questo progetto e grazie quindi anche alla biblioteca e ai genitori dei bambini che portano e fanno fiducia in noi studentesse e noi pratichiamo questo tirocinio alternanza scuola-lavoro facendo lezioni di inglese a bambini e aiutando la comunità nell'inglese perché l'inglese è una lingua che va conosciuta e è molto importante.